Dovevamo scegliere un giocatore a cui far vestire la maglia ufficiale per la prima volta e abbiamo scelto per tanti motivi Andrea Brighi, abbiamo fatto bene secondo voi? Abbiamo fatto bene, fate un grande applauso, è di Rimini lui, è uno dei nostri Ascolta, quanto sei veramente consapevole e quindi emozionato alla vigilia di questa grande avventura tra i professionisti nella tua città? Sono serio adesso? No, sono molto contento, molto curioso, emozionato perché è la seconda mia avventura e sicuramente più invecchio, possiamo dire più invecchio, più le responsabilità aumentano e più anche le emozioni sono forti, quindi è bello, sono curioso e impaziente Bene, come sono impazienti anche i tifosi, per qualcuno potrà essere una banalità ma io so che per tanti questa cosa è molto importante ed anche emozionante ovvero il momento di vedere la maglia scacchi di questa stagione perché io so che per voi è veramente una vera infinita passione e allora un bel coro curva lo facciamo perché stiamo guardando, vedendo la maglia scacchi che spero che qualcuno prima o poi e sempre più spesso vi possa lanciare sotto con la curva e allora, attenzione, eccola qua la maglia scacchi 2018-2019 del Rimini Potresti anche fare una passerella, vai a dare un 5 a tutti i tifosi, dai, sì vai Un 5, no, ai ragazzi, ai bambini, eccolo Un 5 a tutti i bambini, quella è la nostra maglia, è la nostra divisa Bene, grande, grande Andrea